In primo piano i tanti eventi che si sono svolti e si svolgeranno oggi in Abruzzo in occasione della giornata della memoria. Testimonianze di sopravvissuti, di studiosi della Shoah e coinvolgimento in particolare delle scuole, sia pure nelle modalità possibili in una situazione di lezioni non in presenza. Ci sono molte le iniziative nelle città. Partiamo da Pescara dove c'è la nostra Anna Di Giorgio e dove è appena terminata una seduta solenne del Consiglio Comunale. Anna. Sì Carmine, buongiorno a te e ai telespettatori del Tg8. Siamo con la telecamera di Andrea Berardinelli all'interno della sala consigliare del Comune di Pescara dove si è da poco conclusa, come dicevi bene, una cerimonia solenne, un consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria a Lisa Billig Palmieri per quelle che sono le celebrazioni che il Comune di Pescara ha voluto dedicare alla giornata della memoria. Il 27 gennaio era infatti il giorno in cui il campo di sterminio di Auschwitz fu liberato dalle truppe russe e a Pescara questo evento è stato ricordato attraverso una lunga giornata di eventi che è partita con questo consiglio straordinario e la cittadinanza onoraria alla giornalista vaticanista Lisa Palmieri Billig che è nata a Vienna, quindi in Austria, da una famiglia ebrea e che subito dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel 1938 è emigrata con la sua famiglia a New York. Da lì poi però è ritornata nel 1961 a Roma, quindi in Italia e da allora Lisa Billig non ha mai smesso di impegnarsi socialmente proprio per raccontare quelli che sono stati gli orrori della Shoah e di quanti hanno perso appunto la vita nei campi di sterminio nazisti. Proprio per questo appunto il Comune di Pescara ha voluto conferire questa cittadinanza onoraria a Lisa Billig tra l'altro la città di Pescara è stata una delle prime anche ad aderire in Italia alla giornata europea della cultura ebraica. C'era stata anche la cittadinanza onoraria conferita alla senatrice Liliana Segre e questo percorso appunto è andato avanti anche oggi attraverso questa giornata che è partita con il Consiglio Comunale Straordinario poi è andata avanti con la deposizione di una corona dall'oro in Piazza Italia davanti alla lapide dedicata alle vittime della Shoah e poi una tavola rotonda con tanti protagonisti e tante voci che hanno raccontato la loro testimonianza e che hanno ribadito l'importanza appunto della memoria. Tavola rotonda dal titolo Seminare Conoscenza per raccogliere memoria che è stata moderata dall'avvocato Federico Gentilini di Amicizia Ebraico Cristiana Educals che abbiamo ascoltato questa mattina in una breve intervista. La regia può mandarla in onda e dopo torniamo per aggiungere altro di questa mattinata. Sì, un percorso avviato sin dal 2019 con la prima adesione del Comune di Pescara alla giornata europea della cultura ebraica. Primo comune in tutta la storia di Abruzzo ad aderire a questo importante evento internazionale. E' un ponte verso il futuro che trae energie e ragioni sempre nuove verso il passato. Non a caso l'evento di oggi vede in controluce il protagonismo dell'infanzia, dei bambini, il Museo della Memoria Giocosa, il pediatra David Korn. Quello che è successo a Campiglio Marittimo, vicino Livorno, questa aggressione a un bambino è un terribile monito su come la memoria, se dimenticata, pregiudica le ragioni del futuro. Queste le dichiarazioni dell'Avvocato Gentilini. Anna, ci sono state anche testimonianze importanti e interessanti in questa tavola rotonda che si è svolta in gran parte online. Sì, purtroppo per motivi legati all'emergenza sanitaria da Covid ovviamente non tutti quelli che sono intervenuti questa mattina sono intervenuti direttamente in presenza qui a Pescara ma anzi erano per lo più tutti collegati appunto dai loro luoghi di residenza o di lavoro. Tra questi c'era anche Edith Brook che è intervenuta con un videomessaggio insomma per raccontare appunto questa giornata importante qui a Pescara. Edith Brook testimone della Shoah e anche scrittrice che tra l'altro è rientrata con il suo libro Il pane perduto che è proprio una sorta di autobiografia della sua esperienza ad Auschwitz è stata anche finalista nel Premio Strega nell'edizione appena passata appunto nel 2021. Ma poi un altro intervento molto molto importante e interessante è stato quello di David Korn, medico pediatra del Gemelli di Roma che ha una storia molto particolare da raccontare la sua sembrerebbe davvero la sceneggiatura di un film ma in realtà purtroppo è una storia tristemente vera accaduta meno di un secolo fa perché David Korn praticamente oggi può raccontare quello che è accaduto alla sua famiglia perché un gesto di coraggio e di generosità di una donna aquilana era riuscita a mettere in salvo la sua famiglia e quindi che è riuscita a scampare appunto allo sterminio degli ebrei negli anni appunto passati. David Korn oggi appunto dicevamo è un medico pediatra del Gemelli di Roma anche lui impegnato attivamente nel racconto degli orrori della Shoah e facendo un parallelo proprio con questo periodo di emergenza sanitaria ha detto che la memoria oggi è l'unico vaccino l'unico antidoto che noi abbiamo contro l'indifferenza è per evitare che l'odio continui ad attecchire provocando ulteriori vittime vittime come per esempio il dodicenne della provincia di Livorno che è stato vittima proprio nei giorni passati di antisemitismo anche di questo si è parlato parlando proprio di attualità e riportando sui fatti odierni appunto delle vicende legate alla Shoah che sono purtroppo ancora oggi tristemente attuali Carmine se non hai altre domande tanto altro lo potremo approfondire anche nel corso dell'approfondimento che andrà in onda questa sera alle 20 e 5